Voi non sapete chi sia e da dove venga quell'uomo, ma questo suo trucchetto vi ha convinto. Voi non sapete chi sia e da dove venga. Voi non sapete chi sia e da dove venga. Voi non sapete chi sia e da dove venga. Voi non sapete chi sia e da dove venga. Voi non sapete chi sia e da dove venga. Non sapete chi sia e da dove venga. Voi non sapete chi sia.